Mori per noi, per salvarci, per salvarci dalla perdizione! Tu mi dici che ti hanno battezzata da bambina, eh? Mi dici che ti hanno battezzata nella chiesa, ma ora come vivi? Eh? Ti hanno battezzato da bambino e ora come vivi? Come vivi adesso? Eh? Pagani! Convertitevi al re dei re, perché il giudizio è alle porte, lo dice la scrittura del Lui. Convertitevi! Il regno dei cieli è vicino, accogliete la verità nei vostri cuori, l'amore di Yahweh, l'amore di Gesù Cristo e lo Spirito Santo entrerà nei vostri cuori per liberarci!